Credo che si possa dire buonasera a questo punto perché passato un po' di tempo vi vedo giustamente stremati. Sappiate che, no, io sono rimasta entusiasta da quello che ho sentito, ho imparato un sacco di cose. Infatti mi ero fatta una scaletta mentale e l'ho rivoluzionata perché sono tanti gli spunti che mi sono arrivati. Sappiate che credo per quel senso di colpa che sempre accompagna le scelte in campo femminile, a me hanno dato cinque minuti in più degli altri. È un palese segno di tentativo di, come dire, arrufianarsi le quote rosa. O forse nella speranza appunto che io in qualche modo tiri le fila, ma mi sembra improbabile. Mi sembra eccellente sia nella versione originale che ho sentito ora, ma anche negli esecutori musicali dell'inizio, i supporters dell'inizio sono stati molto bravi, io ho anche scoperto che a volte sotto la giacca di un avvocato si nascondono dei tatuaggi. È una cosa che non avrei mai sospettato, adesso d'ora in avanti andrò a sollevare la... No, davvero bravi, ma la scelta di Aretha Franklin che canta Think, che è un grande imperativo, anche abbastanza categorico, non a caso è una voce femminile. A me sembra che appunto l'imperativo pensa possa venire solo da una donna, perché da tempo sostengo che l'espressione pensiero maschile sia sostanzialmente un ossimoro, o è pensiero o è maschile. Raramente le due robe convivono, invece oggi sono stata smentita perché ho sentito davvero cose di profondità e insieme... Credo che Italo Calvino sarebbe stato contento di quello che è successo qui oggi perché c'è stata una capacità notevole di conciliare sostanza di pensiero e di profondità con una leggerezza di forma che è sempre più gradita. Think Big a me innanzitutto, se posso aprire il mio cuore, fa venire in mente Sex and the City, laddove Big era l'uomo che Carrie stupidamente ama per tutto quel tempo e alla fine poi nel film riesce anche a sposarlo. Perché è quella cosa lì? Secondo me la categoria del Big è una categoria che abbiamo inventato noi donne per, come dire, lenire e che poi quando si parla gli uomini hanno un problema di perimetro, questo si sa, sono sempre lì che prendono le misure e quindi ci è toccato in qualche modo sostenerli con questa roba del Big. Pensiamo a uno dei capisaldi della letteratura del Novecento, vale a dire il testo di Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu, la cantava Ammina ma l'ha scritta Tony Renis. Quindi c'è veramente questo bisogno di grandezza, laddove non posso non pensare sempre perché vi apro il mio cuore a come sia passata nei secoli una definizione del maschile e del femminile rispetto alla categoria della grandezza che secondo me poi ha avuto anche una sua evoluzione. Diciamo intorno alla seconda metà dell'Ottocento, nel momento in cui anche la grandezza femminile o comunque la presenza femminile nel mondo aveva giustamente un suo bisogno di essere raccontata, insomma c'era bisogno di renderne atto, è nata credo la frase dietro ogni grande uomo c'è una grande donna. A parte la considerazione che tutti noi condividiamo e cioè non c'è bisogno che sia grande l'uomo, voglio dire dietro ogni grande uomo e poi perché l'altra versione era dietro ogni grande uomo c'è una donna che soffre, a maggior ragione non c'è bisogno che sia grande per farci soffrire, però quello che mi colpisce in entrambe queste locuzioni è l'avverbio di luogo o comunque dove è collocata la donna dietro. Secondo me l'evoluzione nei secoli ha portato alla versione 2.0 della stessa frase che oggi potrebbe più o meno suonare, dietro ogni grande uomo c'è una donna stupefatta, che non si riesce a capacitare che l'uomo ci creda, scusate che il mondo ci creda che quello lì è un grande uomo, lo saprà lei che lo vede da dietro. E quindi è un po' questo il punto, di che cosa parliamo quando parliamo di grandezza, a quali misure ci riferiamo? Per esempio mi è venuto da pensare, proprio stimolata dal livello davvero alto delle conservazioni che ho sentito oggi, di come in realtà in questi giorni sia stato assegnato il premio Nobel per la medicina a scienziati, a studiosi che hanno lavorato sull'infinitamente piccolo, sui mitocondri che sono delle frazioni di cellule e di come questi organismi invisibili riescano o non riescano a metabolizzare e a usare l'ossigeno e questo ci racconterà un sacco di cose per esempio sull'insorgenza dei tumori. Quindi forse il concetto di pensare in grande è assolutamente relativo, cioè grande può essere anche una cosa infinitamente piccola che ci porta poi a delle grandi scoperte, ai dei grandi mutamenti. Mi piace pensare di usare la poesia e c'è un bellissimo verso di Robert Frost che è un grande poeta americano che ha scritto non bisogna mai accontentarsi di quello che ha portato di mano, altrimenti a cosa servirebbe il cielo? Che è una visione un po' romantica se vogliamo, ma è proprio quello che fa la differenza. È quello che poi ha spinto le grandi conquiste, le grandi scoperte, le grandi novità, tutto quello che agita è agitato il pianeta. Allora, andiamo un po' con ordine. Dunque, il primo intervento che mi è piaciuto moltissimo ovviamente, che era quello di Luca Mercalli che ha, come dire, scoperchiato veramente un vaso di Pandora, di false informazioni, di chiamiamole fake news, di incertezze. Soprattutto io gli sono molto grata, non so se è ancora qui, forse no, ma comunque gli sono grata lo stesso, perché ha fatto piazza pulita del concetto di percezione. Da un po' di anni a questa parte è stata inserita la cosa delle temperature percepite, del clima percepito, che è come quando nelle case di tutti noi si diceva mi fa male la cipolla, mi fa male il ginocchio, quindi cambia il tempo. È la stessa identica cosa. Noi pensiamo, temo ancora troppo, in termini assolutamente soggettivi, personali, a quelli che sono i grandissimi temi del pianeta. E non ce lo possiamo più permettere, non conta la nostra percezione individuale, conta quello che ci viene detto, spiegato, rispiegato. E mi ha fatto molto piacere che Mercalli abbia con tanta affettuosa e leggera solidarietà trattato, non il tema perché è una giovane persona, ma insomma, Greta Thunberg, nei confronti della quale io sento un livello di aggressività e di rancore che mi sembra francamente fuori luogo. La cosa che le si rimprova, dice cose che hanno già detto tutti, ma lei riesce a comunicarle ad alcune centinaia di migliaia di giovani persone nel mondo, quindi è brava, è curioso, è come se ci fosse perennemente un arroccarsi su posizioni per cui in teoria il nostro, tutti noi siamo sempre molto favorevoli ai giovani, ma in realtà, come dire, non gli concediamo un diritto di cittadinanza pari al nostro, unicamente perché noi siamo qui da più tempo e questo è il risultato, il pianeta è messo così, passo indietro e lasciar fare a loro. Una cosa che mi ha fatto pensare quando Luca Mercalli ha spiegato così bene perché è così pericoloso che il futuro del clima del paese sia considerato ignoto, quando ha parlato del fatto che ignoto vuol dire che non sappiamo se l'homo sapiens sapiens potrà sopravvivere. Ecco, mi permetto di dire che forse l'homo sapiens sapiens non ce la fa, ma la ragazza sapiens sapiens, no no no, ma anche qui mi baso su una roba assolutamente scientifica. C'è un genetista inglese, si chiama Steve Jones, in odore di Nobel un po' di tempo fa, poi non so se gliel'hanno dato, e genetista maschio, quindi non suscettibile di una posizione, che alcuni anni fa attraverso un suo studio ha scoperto, insomma ha detto che la specie appunto dell'homo sapiens sapiens inteso come maschio è a grave rischio estinzione, nel senso che da quando è comparso per la prima volta l'esemplare sulla faccia della Terra, parliamo di alcune centinaia di milioni di anni fa, a oggi il suo cromosoma di riconoscimento, diciamo così, che è il cromosoma Y, si è già dimezzato. Quindi se si va avanti così, per carità ci vorrà il tempo che ci vorrà, lui sostiene che l'estinzione definitiva avverrà intorno al 200.000 e 9, per carità, c'è un sacco di tempo però in millenni, come si savolano, la suddetta specie dell'homo sapiens sapiens è destinata a scomparire, si estinguerà per manifesto inadeguetezza alla vita, indipendentemente dal clima. Mentre, che per carità, una cosa che è un po' di, non moltissimo, voglio dire, perché noi invece, la ragazza sapiens sapiens, no, si è del caso che il nostro cromosoma, il cromosoma X, se per caso si guasta, sia perfettamente in grado di ripararsi da solo. Quindi noi siamo virtualmente eterne e immortali. Solo per dire, secondo me la divisione in sesso forte e sesso debole è una stronzata, ma nel caso, quale sarebbe il sesso forte, visto che noi abbiamo questa simpatica caratteristica proprio biologica e genetica in più? Poi, allora, l'intervento, poi cosa è stato? Francesco, io ho avuto una grande solidarietà per Francesco, il primo intervento diciamo interno, perché con un cognome così si fa fatica nella vita, perché se ti pronunciano sola, si dice sola, poveri, però è un maschio, quindi insomma si ingenerano subito sospetti sulla tua identità, se ti pronunciano sola, peggio ancora, perché da Roma in giù è una fregatura, quindi invece ho molto apprezzato la passione con cui lui ha messo, ha sottolineato una delle parole chiave, mi sembra, di tutto questo incontro e confronto di oggi, che è la parola responsabilità. Diceva Emily Dickinson che essere un fiore è una grossa responsabilità, diceva Emily Dickinson che per fare un prato ci vuole del trifoglio e un'ape, del trifoglio, un'ape e sogno, il sogno basterà se le api sono poche. Ahimè, le api stanno diventando sempre più poche, quindi la nostra responsabilità nei confronti del pianeta è fare attenzione in modo che si possa continuare a pensare, a vivere grandemente, a fare attenzione ai dettagli, alle piccole cose, alla realtà delle cose, alle parole. Oggi, io divago moltissimo, ma mi ha colpito una notizia che ho letto in una rassegna stampa di un'azienda che fa vendite online, che produce abiti, vestiti e che ha immesso sul mercato una linea di abiti assolutamente eco-friendly, perfettamente ecologici, che tu puoi scegliere, lì ci sono le foto, tu poi mandi una foto tua e loro te le adattano, ma questi abiti sono virtuali, cioè non vengono prodotti, certo che sono eco-friendly, non li produci, rizzo. E questo ha avuto un successo nella stampa, la molto caldeggiata, tutto il mondo della moda, perché? Perché così tu puoi farti fare, a seconda del modello che scegli, l'impermiabilino giallo piuttosto che la tuta da montagna, che chissà se Tamara la userebbe, io penso di no, e poi ti fai, qual è il fine di questa cosa? Ti fai fare una foto, tu mandi la foto di te, loro ti adattano il modello perfettamente alla tua figura, quindi tu hai una foto di te con questo modello perfettamente customizzato, come si dice in italiano, e poi quindi lo puoi mettere sui social. E quindi puoi lanciare una linea di abiti che sono perfettamente eco-friendly e molto green e assolutamente compatibili e non inquinano, ma non esistono. La mia domanda, un po' cretina, un po' da vecchia babbiona, o baby boomer se preferite, quale sono? È, ma come si veste sta gente quando esce? Mi sembra di essere precipitata nel vestito nuovo dell'imperatore. Ci vorrà un bambino che dice il re è nudo o anche quello lì è nudo? Ecco, a me sembra che questa totale scollatura tra il mondo reale, la realtà vera e tutto quanto di meraviglioso il mondo delle tecnologie ci offre, però mi sembrerebbe il caso di continuare a sottolineare che si tratta di strumenti, si tratta di mezzi, di tools, di cose che usiamo, di cui ci serviamo per raggiungere degli scopi o degli obiettivi in sé, non dicono nulla, non sono né buoni né cattivi, ma soprattutto se diventano un fine in sé, come in me è successo per il denaro, che se c'è una roba che è nata proprio come mezzo, puro mezzo, non ha alcun valore il denaro, è puro simbolo, eppure è diventato il fine, il goal, metto un po' di parole inglesi perché mi è molto colpito l'intervento di Corradino Coratti che non ho capito niente, nel senso che ogni tanto, ma colpa mia, ogni tanto guardavo lei e capivo lei, anzi complimenti, cioè capivo molto di più il linguaggio dei segni che non conosco peraltro, perché lui ha fatto un intervento fantastico, io capisco che sua figlia Sofia, Sofia Sofia è un genio, assoluto, perché non solo difende il babbo e dice lui è l'hacker buono, ma capisce quello che il suo papà fa nella vita, ed è tanta roba, perché, e siccome io vengo, appartengo a un'altra generazione, sembri baby boomer anziani, ma mi colpisce che a volte l'uso di una lingua, per carità, sicuramente l'inglese è la lingua del presente, del futuro, però così io mi veniva un po' da ridere, anche perché poi siccome sono un po' professoressa dentro, un po' pignola, un po' noiosa, poi ho notato delle cose molto carine, per esempio la riproduzione della copertina del libro di quello che io pensavo fosse il protagonista, pensavo fosse Di Caprio, prova a prendermi, pensavo che fosse lui, invece non era lui, e però, allora, il titolo del libro, ecco mi è caduto quello lì, molto bene, della copertina era Art of Deception, ma lì era scritta Art of Detection, quindi è uno curiosissimo lapsus, che ha completamente stravolto un significato, io sono contenta di essermene accorta, perché io penso che si debba sempre fare molta attenzione alle parole, come diceva Anni Moretti, le parole sono importanti e chi parla male pensa male, ma è proprio questo di cui secondo me, vai via tu, a cui dobbiamo prestare attenzione, al dettaglio, perché il grande, l'infinitamente grande, il meravigliosamente grande, nasce molto spesso dal dettaglio, allora se io, perdonatemi, non sto criticando nessuno, io sono una subrette, mi attacco a qualunque cosa, pur di trovare poi la cosa che presumo sia efficace, sempre nella stessa slide, i wannabe hackers, era scritto wanna con la O, che sembra come noi chiamiamo la mia amica Vanna quando la prendiamo in giro, e poi non era be, ma era bye, è pazzesco, perché è totalmente, come posso dire, spiazzante, e quindi finisce per, per me, che appunto sono anziana, per distrarmi, però comunque, io con tutto l'affetto, non ho capito niente, ho solo capito che è meglio che faccio il backup ogni tanto, questa è l'unica cosa che mi è rimasta, cioè, fai il backup ogni tanto, ma me lo dice sempre anche mio marito, perché noi donne non siamo portate per il backup, noi donne siamo portate per il futuro, c'è una cosa che mi ha molto colpito, parlando di futuro, che mi sembra pertinente, l'ho anche usato in un, a giugno scorso ho fatto, madonna, devo correre, degli interventi, o posso allungarmi ulteriormente, non si sa se è una promessa o una minaccia, degli interventi in una trasmissione televisiva, mi avevano chiesto di fare uno sul tema, il futuro, e a me aveva colpito moltissimo, di come tutti noi, è sempre questa specie di schizofrenia che hai, specie in Italia, altrove non lo so, tra quello che le persone dicono di avere a cuore, per esempio il pianeta, per esempio tutto quello che riguarda la green economy e la responsabilità, poi però nessuno vota per i verdi, non dico che sia, però nel resto dell'Europa sì, da noi no, ecco il futuro, quindi uno pensa al proprio futuro, bene, in Italia il budget, l'investimento che gli italiani fanno in assicurazioni è la metà di quello che spendono per maghi, fattucchiere e affini e un terzo di quello che spendono per lotterie, gratte e vinci e giochi d'azzardo. Non stiamo bene, non stiamo bene per niente, il futuro è una cosa molto seria e pensare al futuro, pensarci in termini demografici, mi è piaciuta molto Sabrina, anche l'unica cosa, ma non è una critica, quando tu parlavi di, come dire, della mancata fecondità, il dramma è che non si arriva neanche a verificarla la fecondità, cioè la natalità non equivale alla fecondità, moltissime di quelle donne tra i 18 e i 49 anni, ma insomma io ho tre figlie, femmine, quindi insomma so di che cosa stiamo parlando, è che tu neanche arrivi a poter verificare se sei feconda o no, se sei feconda o no, perché non ti puoi neanche permettere il pensiero di avere dei figli, perché, ma non è perché non li vuoi. Rispetto alla maternità, se mi concedete una piccola autocitazione, io da tanti anni ho in repertorio un piccolo pezzo che avevo, ma non roba da niente, dedicato proprio a questo tema di come sia difficile scegliere oggi per una donna, per una ragazza di verità, perché sei assalita dai dubbi, dai timori, dai terrori, ti fanno intorno, cioè no, un figlio oggi, ma sei sicura di diventare madre, forse una buona regola sarebbe affrontare il neonato direttamente all'americana, presentarsi, proprio dirgli salve, io sono tua madre, mi pare corretto e doveroso informarti subito che secondo una scuola di pensiero contemporanea molto diffusa e attendibile, il mio ruolo nella tua vita è destinato ad essere centrale e devastante. Puoi tranquillamente attribuire a me la colpa del 90% circa di tutti i tuoi guai, problemi, sfighe, frustrazioni e catastrofi. Per il restante 10% a oggi puoi prendertela con le ONG. Domani si vedrà. A proposito di pianeta di vivibilità e a proposito di, lo citava Luca Mercalli, di quanto presto si sia effettivamente cominciati a occupare di quello che succedeva nel pianeta, io che viaggio più verso i poeti, Henry David Thoreau, che è stato un grande pensatore, anche un idealista, per certi versi un visionario della seconda metà dell'Ottocento, ha scritto una frase meravigliosa di cui poi noi abbiamo, credo inconsapevolmente, fatto la parafrasi molto spesso, quando ci troviamo a dire cosa me ne faccio di un divano nuovo piuttosto che della cucina di Carlo Cracco se poi non ho una casa in cui metterla. Lui allora aveva scritto cosa te ne fai di una casa decente se poi non hai un pianeta decente in cui metterla. Seconda metà dell'Ottocento fa pensare. A proposito di... Ah no, poi mi sono innamorata di Tamara e quindi proprio le sono profondamente grata per quello che ha detto, per come l'ha detto, perché mi sono molto emozionata per le sue lacrime in vetta, perché penso che sia esattamente questo l'approccio femminile che manca al mondo e pensavo al bellissimo intervento che ha fatto Caracciolo, descrivendo la perfezione e anche con appunto con una capacità di affabulazione straordinaria questi imperatori del pianeta. A me sembra che a questa visione degli imperi del mondo manchi il punto di vista femminile, che non vuol dire che tutti gli uomini maschi ne siano privi, così come non vuol dire che tutte le donne lo condividano, ma è quello che mi ha dato l'intervento di Tamara, quel pensiero lì, quella capacità di dire io mi misuro su di me, io non sono l'eroina, io l'ho fatto per me, io ho valutato, ma io voglio seguire quello che penso sia quello che voglio essere, non quello che voglio fare. E ti voglio dire, perché ne vado molto fiera, che io ho avuto l'enorme gioia e privilegio nella mia vita di conoscere Walter Bonatti, che era un uomo magnifico. Una volta è venuto a vedere un mio spettacolo, io appunto faccio monologhi che sono spesso, e questo era un monologo sull'otello di Shakespeare, quindi tanta roba, e lui alla fine è venuto in camerino e ha detto, se vuoi te lo metto per iscritto, fare questo spettacolo qui è come aver fatto il K2. Quindi, io me la tiro un po', avrei ancora un po' di robe da dire, vorrei ringraziare anche Giuseppe e Daniele che hanno fatto begli interventi appassionati, proprio su come sia importante, come la differenza la faccia il saper vedere, la cosa magari piccola, che però diventa grande, come non è lo share che conta, ma è la qualità di quello che fai. Credo che confondere la quantità di persone che vedono un programma televisivo, piuttosto che aderiscono a un progetto, con la qualità e la consapevolezza di quello che fai, sia davvero un punto cruciale. Io non voglio, per carità, penso che Teleton sia un'iniziativa più che meritoria, ma credo che ci sia sempre un po' di differenza tra il fornire un numero di carta di credito e andare a vedere un progetto e farsene carico anche in minima parte di persone, insomma, metterci un po' di sé. E che cosa altro? Vorrei, sì, devo chiudere perché time's up, c'è una cosa, c'è una poesia di Mayakovsky a proposito di futuro, di pianeta, di vita, rispondendo a una poesia che Sergei Jesenin aveva scritto prima di suicidarsi, in cui diceva in questa vita morire non è nuovo, ma più nuovo non è nemmeno vivere. Mayakovsky ha scritto un bellissima poesia in cui a un certo punto dice, per l'allegria il pianeta nostro è poco attrezzato, dobbiamo rubare la gioia ai giorni futuri. E conclude, in questa vita non è difficile morire, vivere è di gran lunga più difficile. Grazie. Grazie Alella Costa, bravissima, no? Ah, c'è il tappo di una penna che credo sia suo. Lo poniamo qua. Stavo aspettando che dicesse qualcosa su di me, tipo sull'accento. No, no, ma sono cavata. No, no. Se no... Non me la posso tirare in questo modo? No, allora volevo dirti, e no, se no poi tutto sto a parlare di femminile, femminile e poi faccio questa cattiveria. Volevo farti i miei complimenti più sinceri perché sei l'unica sarda che conosco che è riuscita a domare le vocali. Grazie. Non ne conosco altre, né femminile né maschi, tu invece... Con nonna però parlo in sardo, però in sardo dico la lingua, eh? Eh, sì, quindi sei incomprensibile a tutti noi che poi il sardo, se fosse un sardo solo, quelli di Alghero non si capiscono con quelli di Sassari. E fammi capire. Esatto. Scusa, un'ultima cosa sul genio e la superiorità culturale dei sardi. La prima volta che ho stato a Sassari nella mia vita sul bastione... No, scusa, no, a Sassari, sì, no, no, sul bastione mi confondo, c'era scritto Cagliaritani barbari, eh? Che chic. I sassaresi hanno scritto Cagliaritani barbari. Perché c'è questa cosa tipo anche ad Orgali, se tu vai ti dicono se hai un accento di Cagliari, ma sei per caso, si dice in sardo, c'è c'è Maureddina, sei Maureddina della Mauritania. Che sa per Mauritania, ecco. Se sei di Cagliari. No, stanno messi bene. Ci sono un po' di rivalità. No, appena appena, ve ne racconto un'ultima, poi mi levo di torno. Festival di Seneghe, Seneghe in Montiferru, prima edizione del Festival di Seneghe, non chiedetemi perché ci sono andata, mi hanno invitato, piuttosto impervio. Il primo anno, quindi non c'è accoglienza alberghiera, mi mettono con la mia amica che mi ha accompagnato in casa di signora Teresa Scanu. Teresa Scanu, mamma di Tanino, Sebastiano ha detto Tanino, aveva degli arretrati di comunicazione verbale di alcune decine di anni e quindi ogni volta che beccava me e Cinzia ci attaccava dei pipponi epici. Bene, signora Teresa Scanu ci ha raccontato della sua biografia, ha sofferta e ci ha detto che lei non era di Seneghe, era di Narbolia e che ha sei chilometri di distanza da Seneghe, ma ha sposato un uomo di Seneghe e ha sofferto molto perché quando, ai tempi del loro, insomma, quando si sono sposati loro, a quell'epoca non erano ben visti, i matrimoni misti, giuro, i matrimoni misti, non ce la faremo mai, noi, altrove speriamo. Grazie e molti complimenti. Non sto male, no scusatemi perché io queste cose le vivo tutti i giorni, non sto male, ok, no veramente, va bene, allora non mi capita mai, scusate.